e questo solo perché dalla faccia così dritta io l'ho girata penso un po' quando faccio così quando vedo la testa la voglio disegnare in questa maniera in questa maniera molto da sotto di prospettiva cioè cambia completamente e bisogna tenere presente questi effetti questo effetto qui l'altra cosa importante è il comportamento rispetto alla luce facciamo finta che la luce qui sia luce sia dall'alto questa parte è illuminata questa parte è in ombra questa parte diciamo che è illuminata fino a qui qui comincia la penombra e qui c'è un'ombra piena allora e queste sono le premesse della lezione e degli esercizi che ho dato a questo mio allievo allora io posso fare una cosa carico su discord le immagini della lezione allora io adesso faccio vi mando il primo disegno che ho mandato al mio allievo allora io qui c'ho un modello schematico di labbra il primo esercizio che gli ho mandato dopo questa spiegazione il primo esercizio che gli ho mandato è questo qui allora no questo uno ve lo faccio perché poi peraltro l'ho già fatto ma ve lo ricordo allora una bocca vista da davanti la possiamo considerare composta da tre tre masi la parte il labbro superiore a tre allora ci sono tre cuscinetti di grasso fondamentalmente nelle labbra non è tessuto morbido e sotto invece ce ne sono solo due uno e due si vedono il taglio delle labbra dove si aprono passa qua in mezzo e subisce ok subisce questo andamento ok quindi per tornare all'illuminazione e quindi se dovendo le disegnatori dovendo disegnare il bordo il bordo delle labbra va così tornando all'illuminazione se la luce viene da qua qui c'è ombra o l'altra cosa è che le labbra non possono essere non hanno questo contorno qui questo qui è un simbolo un geroglifico le labbra si evidenziano sul volto per il chiaroscuro a parte che tutto il volto viene giocato su variazioni di chiaroscuro non ci sono linee di contorno intorno a niente le mie mani non hanno una linea di contorno che separa la mano dal bianco del foglio o dall'ombra non c'è una linea finisce il tono del valore della mano e comincia il tono dello sfondo ok quindi per far venire fuori le labbra sul volto io devo giocarmi il chiaroscuro primo un po' più scuro qui e poi qua sotto c'è ombra poi vabbè qui ci sono dei giochi così perché c'è tutta la muscolatura eccetera qui c'è il mento e qui c'è l'ombra sul mento non so se riesco a spiegarmi ok quindi di nuovo se devo vederla di scorcio la bocca devo tenere conto del gioco prospettico di questi tre elementi di sopra e questi due elementi di sotto e devo evitare di rigirare questo è così non devo fare questo giochetto perché questo giochetto è quello che vedo fare ma anche da quelli bravi ma anche io tendo a fare questo tipo di pasticcio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti